Battuta dal Ponte d'Era ed eliminata dalla Coppa Italia dopo una sola partita, non è certo iniziata nel migliore dei modi l'avventura della Pistoiese che si era presentata al Mannucci con un organico ridotto all'osso per mancanza di giocatori e ulteriormente penalizzato dagli infortuni di Bordini che non è nemmeno entrato in campo e di Morachioli che invece qualche minuto di qualità è riuscita a darlo. Nonostante tutto però la prova degli arancioni non è stata negativa, anzi, visto quello che è successo la sconfitta appare immeritata. Sì, era importante partire bene più che altro per quello che abbiamo fatto in queste settimane. Siamo un gruppo abbastanza giovane e anche per il morale e per il lavoro che abbiamo fatto era importante partire bene. Non ci siamo riusciti però dobbiamo prendere le cose positive perché ci sono state, siamo i primi di agosto, è normale avere una condizione fisica del genere che dopo un po' di tempo ti lascia un po' sulle gambe. Però dobbiamo ripartire, dobbiamo pensare alla prossima e cercheremo di chiudere al meglio. Nel finale, soprattutto dopo il tuo gol, sembrava l'inerzia della partita fosse passata in mano vostra, poi è arrivata questa azione quasi un contropiede. Sì, dopo che fai il gol generalmente prendi coraggio. Era quello che era successo anche se, ripeto, eravamo veramente sulle gambe, come loro. Poi in un contropiede sono stati bravi a fare gol e quindi secondo me lì la partita è finita perché veramente c'erano poche forze per andare avanti. Sì, sicuramente un punto ci poteva essere, anzi diciamo che l'abbiamo persa proprio nel momento nostro migliore, quando si sperava anche di poterla vincere perché credo che nel secondo tempo la squadra abbia fatto bene e potevamo trarre sicuramente qualcosa in più. Cosa è mancato a parte qualche giocatore? Il fatto che manchino un po' di calciatori ancora per completare la rosa non ci ha permesso di cercare di tenere il livello tecnico come quando giochiamo con, tra virgolette, i titolari. Logicamente c'è anche il fatto che siamo alle prime di campionato, il caldo, la condizione fisica la fa da padrone in questo periodo. però fin quando siamo stati in partita, prima di subire il secondo gol, penso che la squadra si sia comportata bene. È stato un test valido, valido contro un avversario del nostro campionato che ha giocatori importanti, che ha giocatori di esperienza, che gioca bene, che ha un'idea di gioco anche importante. Perciò è un test che ci consente di fare un passo in avanti dal punto di vista della condizione. Poi è venuto fuori il risultato della vittoria, è più importante per il morale dei ragazzi, però in questa fase contano più altre cose. È chiaro, l'infortunio di Caponi è molto più grave, è molto più importante di una vittoria. Quindi ci sono cose più importanti in questo momento. Grazie a voi.